a me è stato chiesto ma c'è in matematica come dire la possibilità di far leggere i bambini gli adulti e quindi mi sono scervellato per mesi per anni per settimane nottetempo rinunciando ad ascoltare musica poesia filastroche per rispondere a questa domanda e nei 19 minuti che mi sono rimasto a disposizione proverò a fare un elenco di queste possibilità finendo con una sollecitazione che è stata data poc'anzi ho fatto un elenco di possibili letture matematiche di quelle che vedo in giro nel mondo della scuola spesso spesso ci sono storie che finiscono con problemi e quindi c'è tutta una lunga narrazione poi alla fine c'è una fregatura mortale per i bambini perché ti arriva un problema e questi problemi sono considerati divertenti è una cosa moderna no signori cari è una cosa vecchia come il mondo perché addirittura nel papiro di rind che è un papiro del 1650 prima di cristo ma che è la copia di un papiro più vecchio ci sono un mucchio di questi giochini per bambini piccoli ve la ricordate quella storia che potremmo anche mettere sotto forma di filastrocca c'era un uomo che andava a camogli con sette mogli con sette mogli allora nella versione egizia non c'è camogli ovviamente c'è un altro un altro posto ma quella storia lì è qui appare qua e alla fine la domanda è ma in quanti vanno a camogli e bimbi contenti sì io voglio risolverlo questo problema poi c'è l'occhio di orus che qua è nella sua versione originale che tutti potete controllare che è un miscuglio fra frazioni e sesso anche a me capita talvolta di andare nelle scuole e mi diverto molto con i bimbi piccoli perché qui a un certo punto c'è un dio che si avvicina a una pastorella e le chiede insomma ecco sono più in difficoltà con gli adulti che con i bambini non so come dirvelo allora con i bambini diventa di fare una passeggiata notturna insieme ma i bimbi capiscono benissimo si guardano con degli occhi e voi direte cosa c'entrano le frazioni caspita alla fine tutto il gioco è un gioco di frazioni che i bambini non risolvono perché la storia è troppo vincente per altri motivi veda di york detto il venerabile sapete quello che si è inventato che prima di cristo i numeri sono negativi e dopo cristo i numeri sono positivi per questo è stato fatto santo della chiesa cattolica nel 1899 lui ha scritto un mucchio di giochini tra i quali c'è quello famoso del contadino che deve passare un fiume che c'è un lupo un cavolo ricordato ma donne i bimbi si divertono da matti poi si inventano ma come il cavolo non lo può tagliare e poi c'è un'altra bellissima li lavati di bascara caria qui ci metto gli anni ma so che inutile tutti lo sanno perfettamente allora lui ha scritto un libro di matematica destinato a una signora che si chiama li lavati potrebbe essere per alcuni la figlia per altri la moglie per altri l'amante e lui per come dire catturare l'interesse sessuale di questa persona per cui speriamo che fosse la matte o la moglie le propone dei problemi di matematica che ho provato a dargli a dei ragazzi un po più adulti dicendo se vi va male sessualmente con le vostre provateci anche voi un sesto delle api di uno sciame volò verso un fiore patali un terzo verso un angolo e alla fine la domanda è oh bellissima fanciulla quanti erano le api dello sciame io non so quanti bimbi si divertano a risolvere i problemi di questo genere da mille anni quasi leonardo da pisa ha detto figonacci tutti lo conoscono questo c'era dei conigli che non morivano mai nicolò fontana detto tata tartaglia questa è bellissima in una stalla ci sono solo pecore galline se conti le teste eccetera questo lo diamo sempre i bimbi ai miei tempi il divertimento erano le vasche bucate ecco te vedo che no sei più giovane di me ma siamo lì era un divertimento insano che consisteva nel farti venire voglia di ripararle ste cazzo di di vasche ci avevano i buchi e lui spiega di tutto perché in argentina sono troppo seri non fanno ste stronti se insomma allora questo per dirvi ci sono perché ridi ci sono queste la prima la prima delle tante che ho ma sono già passati sei minuti è inventarsi delle storie che poi fatalmente finiscono con delle domande tra bocchetto e i bimbi se ne accorgono e ti mandano a quel paese non danno da leggere queste cose qua alcuni sono racconti con tema cognitivo alcuni sono veri racconti in cui il protagonista è o la matematica o i matematici a volte sono biografie romanzate ce n'è una quantità sterminata il punto di altri sono veri i propri romanzi e questi possono attrarre moltissimo il più bello di tutti è flatlandia che va tenuto per ragazzini un po più grandi perché un bambino della primaria va in qualche modo interpretato li va spiegato con dei disegni qualcuno ha parlato dell'importanza delle figure questo è un libro che potrebbe essere fatto solo di figure senza testo ci sono anche dei film realizzati sia in inglese negli stati uniti sia in italia dove appunto è bello questo gioco di figure bidimensionali allora ho preso qui la contro copertina di una vecchia edizione in inglese un'unica italiana altri sono tentativi come dire di sdramatizzare perché siccome la matematica è di gran lunga la disciplina più amata dai nostri studenti e talvolta anche dai nostri insegnanti voi sapete che c'è proprio il desiderio la mattina presto speriamo che si faccia tanta matematica oggi dicono gli studenti allora tra gli esempi ho scelto questi due uno si intitola abbasso la matematica e l'altro invece questo qua la matematica non serve nulla l'abbiamo venduto a tutti i quattordicenni italiani che andavano a scuola ma ma è prof lo dicono d'amore bolondi ci abbiamo invito anche un premio della divulgazione scientifica quindi sdramatizzare nel senso di inventarsi qualcosa per cui non è così drammatica in altri invece la matematica è presentissima in forma decisa non stiamo a dire di musillo non sto a dire di borges diciamo di zavattini questo suo racconto famosissimo la gara mondiale di matematica che è la storia di un papà matematico che va a una gara con un figlio e ne succedono di tutti i colori molto divertenti questo si può leggere anche a bambini molto piccoli diciamo di quarta quinta primaria non prima insomma poi ne trovate alcuni divertenti che sono studi sulle relazioni fra narrativa poesie matematica sono stato in qualche modo invitato su questo palco facendo cenno a questa a questa mia mania di mettere insieme due mondi così diversi e altri sono invece storie della matematica trasformate in racconto scusate l'autocitazione ma vedo che dice editoriale scienza ecco è l'ultima a destra in basso e loro appunto hanno voluto che realizzassimo insieme a questo giornalista una storia della matematica però per bambini raccontata poi l'abbiamo messa in film e sono stati realizzati dieci filmini di sei minuti l'uno per motivi a me totalmente ignoti ai bambini piccoli piacciono da morire questi filmini tadia fa delle domande che più sceme non potrebbe e io per cercare di non fare la figuraccia do delle risposte che più stupide non vi giuro che ce l'ho messa proprio tutta ecco so che si potrebbe superare questo limite di stupidità ma insomma ce l'ho messa proprio tutto e per motivi a me ignoti questi hanno un grandissimo successo sono andati in onda da un po' alle ore 20 e 50 due o tre volte poi sono spariti poi ci sono tentativi di coniugare la matematica con altri campi e qui ce n'è moltissimi la letteratura il cinema ovviamente la geografia la storia ce n'è di tutti i tipi ora però più volte nel pomeriggio il verbo leggere è stato interpretato diciamo con un altro senso e cioè leggere nel senso di interpretare i bambini vanno letti a volte si dice leggere un grafico ovviamente il grafico non si può leggere lo puoi interpretare cioè lo guardi e cerchi di dare una spiegazione più volte è stato usato a leggere in questo senso allora vorrei fare la seguente considerazione a volte noi altri adulti non interpretiamo o se preferite non leggiamo quello che fanno i bambini nella maniera idonea per capire quello che è successo cioè vorrei spingere a pensare delle volte che ha senso interpretare quello che fanno i bambini non tanto dal punto di vista adulto ma sulla base di quello che loro stanno offrendo in quel momento e quindi è un capovolgere un po' quello che normalmente in situazione ordinaria viene fatto nel mondo della scuola naturalmente a parte i presenti e i loro amici e parenti fino alla quinta generazione voglio fare un esempio un articoletto visto che il mio omonimo Bruno ha citato un articolo da lui scritto n anni fa sulla rivista anche qui ce n'è uno del 2014 un po' più recente è successo questo in una stalla ci sono solo pecore galline ma guarda questa questa insegnante questo insegnante non so si è rifatto a quel tartaglia di qui sopra vi ricordate conti le teste sono 18 a ma allora la propria presa da lì madonna e se conti le zampe sono 52 quante sono le pecore e i bambini naturalmente si inventano delle grambale si mettono delle formule scrivono troppo bello sull'errore è già stato detto qualcosa ma qui sono errori inventivi i bambini si divertono alle matrici ce la mettono tutta allora per esempio qualcuno dice caspita questa è matematica aspetta devo dividere e quindi è fatto 52 diviso 4 poi 4 e 2 fa 6 un non senso bellissimo elegante ma non il non senso del filastrocca questo è un non senso poetico fatto con i numeri alla fine i bimbo ti spara sono 108 pecore dice ma scusa ma se le teste erano 18 in tutto mi è venuto così e te cosa gli dici allora la maestra si aspetta una risoluzione per tentativi se le pecore fossero 10 le galline 8 allora sono troppe allora aspetta calo eccetera invece silvia si mette a lavorare per conto proprio e invece di usare i numeri usa dei disegnini fatti così più o meno copiati da lei e allora il quadretto con i quattro segmentini è una pecora il quadretto con due è una gallina e ogni coppia pecora gallina da sei e allora lei comincia a lavorare ma sul disegno non sui numeri la bambina spiega alla maestra la maestra guarda di fronte al fatto che la bambina è molto convinta la maestra mica tanto deve rifletterci però le basta pensarci un attimo per capire che funziona non è chiarissimo il perché però funziona i numeri 4 e 2 sono nascosti dalle zampette ma data parte non era questo il tema erano le zappe degli animali chi ne ha mai chiesto i numeri sono un accidente formale in più non sono mica necessari in matematica vi è piaciuta questa volete che la ricetta questa funziona ma ne una ancora più bellina siamo in una scuola dell'infanzia e siccome siamo in emilia romagna siamo dominati dalla pedagogia di franco fraboni nessuno lo conosce quello della locomotiva con i ternini no non lo conoscete allora l'aula è divisa in tanti angoli e c'è l'angolo del gioco l'angolo del burattino l'angolo delle firastrocche questo l'ho inventato in questo momento in onore suo l'angolo della poesia eccetera e poi c'è l'angolo dei problemi e allora questo è un angolo molto amato perché i problemi proposti sono sempre molto divertenti allora nella sezione dei grandi c'è un foglio di formato a 5 c'è disegnato una cosa di questo tipo si vede bene c'è un bimbo ha una specie di zainetto alle spalle un labirinto e dall'altra parte c'è una scuola e l'insegnante dice bimbi dovete aiutare pierino ad andare lungo la strada a trovare a entrare nella scuola e allora che cosa succede che i bimbi capiscono al volo hanno in mano i loro pennarelli colorati e si inventano c'è quello naturalmente che fa bene il cocco della maestra quello che sicuramente farà l'ingegnere da grande ha trovato la strada subito poi ci sono dei bimbi che iniziano una strada poi si trovano da mal partito non gli ne frega niente e supera lo salto quel muro me ne frega me e la maestra lì rimane un po' sconvolta avrà capito il senso della cosa questo qua o no e comincia ad avere dei dubbi dopo glielo fa fare nel giardino e il bambino va sbattere contro il muro però capita che un bambino luca trova una soluzione assolutamente personale con un fare tronfio consegna alla maestra la seguente soluzione la maestra lì per lì non è felice perché è come se si aspettasse una cosa se ne trova un'altra e rimane un attimo sconvolta allora cosa fa ripensa la consegna ma te gli hai detto che doveva entrare dentro che doveva te gli hai detto che doveva andare a scuola e lui c'è andato anzi mica è scemo luca ha trovato la strada più semplice questa è una soluzione che un architetto non può non accettare e allora la maestra ci pensa un momentino rimane un attimo perplesso poi alla fine c'è ragione anche lui ho preso questa come metafora del fatto che bisogna ascoltare i bambini e chiederglielo è che tu ti aspetti una cosa e per una sorta di contratto didattico come diciamo noi in didattica ci si aspetta che tutti sono d'accordo sul comportamento ma luca l'ha interpretato a modo suo e ha rispettato assolutamente i vincoli posti dal problema giudico questa maestra che dopo un attimo di smarimento ha avuto la capacità di riflettere sulla proposta di luca anche se l'ha trovata contraria alle sue attese una persona di alta professionalità ora sono 19 minuti in un minuto cosa si può dire dunque viva la giunta è già stato detto l'odio alla poesia venisse da me troppo scontato non faccio altro che dirlo tutti i santi giorni lasciatemi dire anche un viva la matematica vista da questo punto di vista una matematica non quella roba fredda formale rompipalle una cosa bella viva in cui il bambino può dare questa soluzione e tutti lo applaudono grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti